L'isola di Man, un fazzoletto di roccia strappato alle acque gelide del mar d'Irlanda. Tutto qui sembra avvolto da un'aura di mistero. I paesaggi antichissimi nel loro splendore millenario. Le persone che incontri così orgogliose delle loro radici, della loro storia. Ma l'isola è famosa anche per altri tre motivi. È un paradiso fiscale, fuori dai centri abitati, non ci sono limiti di velocità e qui dal 1907 si correrà gara motociclistica più estrema del mondo, il Tourist Trophy. 60 km di follia in formato due ruote, tra muretti, case e 200 curve da divorare sempre a gas spalancato. I piloti, come lui, si sfidano qui sul leggendario mountain course. Dalla capitale, Douglas, si va su verso Ramsey e poi, tra salti e pieghe furibonde, si sale fino a 422 metri di altezza, dopo il bungalow, nel punto più alto e leggendario del tracciato. Sullo stesso identico percorso io oggi guiderò l'Audi TT, che ho sempre reputato bellissima ma un po' noiosa. Ma avevo veramente ragione? Eh, diciamo che il discorso è un po' più complesso di così e me ne sto accorgendo su questo tracciato omicidiale. Vi assicuro, ho i brividi a farlo, anche se sono in auto. Muretti e ostacoli dappertutto, zero punti di riferimento. Eh sì, perché soprattutto questa, che è la S, è un po' un oggetto del demonio, perché ti spinge ad andare veloce, molto veloce. È facile, è sicurissima e ti dà una tonnellata di confidenza. Giacomo Agostini, che qui è salito dieci volte sul gradino più alto del podio, diceva sempre per vincere al Tourist Trophy occorre fare le curve lente piano e le curve veloci forte. Devo dire che quest'Audi è perfetta per le strade dell'isola, per il mountain. Perché è vero, nelle curve più lente, più strette, c'è un po' di sottosterzo. Lo ammetto, però in quelle veloci, che sono la maggior parte poi del percorso, eh beh lì la TTS fa la differenza, perché in uscita la trazione 4 con l'Aldex inizia a spingere dietro appena poi. Questo ti dà una valanga di motricità e ti spara fuori dalla curva veramente ad alta velocità. Sempre però sentendoti sicuro, confident, come direbbero qui sull'isola. Di base, in condizioni normali, la trazione rimane anteriore e questo è il segreto che la rende così immediata e sicura. Quando serve però, la motricità passa gradualmente dietro, anche per aiutare a farla scorrere di più nei curvoni da prendere in pieno. E in poche parole ti ritrovi a fare le curve a una velocità che non avresti potuto mai immaginare. Riassumendo, un'auto facile con cui volendo si può andare fortissimo. Certo, ci sono mezzi sicuramente più impegnativi, dove magari bisogna affaticare di più per ottenere lo stesso risultato. Ma qui va a gusti, perché mica tutti vogliono 4 ruote da domare con il coltello tra i denti. Il motore con questo restyling ha perso 4 cavalli, perché è stato necessario montare il filtro antiparticolato. Ora quindi abbiamo 306 cavalli invece che 310, ma non dovete disperare, perché la coppia invece è quella, che poi è quella che conta, è aumentata. 20 Nm in più, fino a quota 400 Nm erogati a 2000 giri e questo ha permesso addirittura di migliorare un pelino le prestazioni. 4,5 secondi nello 0-100, vuol dire un decimo di secondo più veloce rispetto al passato. Il merito è anche del cambio, che è il solito S-Tronic, doppia frizione a 7 marce. Velocissimo, come sempre. Sono in scalato ogni tanto, mi fa disperare perché non mi dà la marcia che vorrei, però passaggio di marcia pulminio impercettibile. È così, forse avrei preferito sentirlo un po' di più, per avere più coinvolgimento di guida. Ma ora c'è una nuova spaziatura dei rapporti inferiori, che rende l'erogazione del motore più cattiva. E me ne sono accorto molto presto. Il 2000 TFSI, devo dire, ha un bel carattere, con un'erogazione bella appuntita. E il sound com'è? Beh, per essere quello di un quattro cilindri turbo non è male, è anche se si è persa un po' di cattiveria, sempre per via del filtro. Intanto continuo la mia scorribanda sull'isola, che si rivela un luogo sempre più magico, curva dopo curva. Guardate che spettacolo, qui si apre il mare di Irlanda davanti a me. Un'altra cosa che mi è piaciuta davvero tanto su questa TT, lo sterzo dinamico. E quindi varia il rapporto di sterzo in base alla velocità, ti fa sempre capire bene cosa stanno facendo le ruote anteriori. C'è un bel feedback e una bella rapidità. Con il restyling è cambiata un po' anche l'estetica. Qualche ritocco ai paraurti e ai preziosi fari Matrix LED. Niente di più. Ma c'è un'altra cosa che rende quest'auto assolutamente unica. E sono gli interni, minimalisti, super tecnologici, assemblati solo come l'Audi sa fare. Cuciti egoisticamente attorno al pilota, perché qui il passeggero sarà sempre solo una comparsa. Ma il traguardo del circuito è vicino e quindi è tempo di bilancio. Non ho idea di cosa possa poter significare fare questo stesso percorso in moto. Adesso sono a 130 miglia orarie. Qui però in moto arrivano anche a più di 200 su due ruote e staccano molto forte. Massimo rispetto per i piloti del TT. Come Milky Quayle, ex campione del Tourist Trophy, che mi sta facendo da lepre. Lui sull'isola ci è nato, il TT l'ha vinto davvero e il mountain lo conosce come se fosse il giardino di casa sua. Ed è stato un onore farlo insieme a lui. Thank you man! Se mi avessero raccontato che un giorno te ne eri riuscito ad affrontare il mountain a questa velocità, mentre parlo e pure divertendomi, beh, non ci avrei creduto. Il merito è della TTS e del suo assetto bilanciatissimo, compatto, sempre reattivo, stabile, forse troppo a retrotreno. Anche se rispetto al passato la TT non è più così sempre incollata alla strada, non sembra più il freccia rossa sui binari, ma soprattutto il rilascio è un po' più ballerina. E l'avere quindi un'auto che si scompone un pelo di più, beh, equivale ad avere un po' più di divertimento. Difficile trovare una piccola sportiva con una storia così, capace di conquistare in 20 anni il cuore di 600.000 clienti. Difficile trovarne una con un design così curato sia fuori sia soprattutto dentro. Difficile trovarne una così maledettamente veloce e al tempo stesso facile, immediata per tutti. Ed è questa la vera essenza della TT, per questo secondo me non va paragonata ad altre auto più blasonate o più veloci, perché lei è una piccola Gran Turismo e vi assicuro che in questo ci riesce benissimo. E voi avete mai visto una Gran Turismo noiosa? Io sinceramente no. Raccontatemi la vostra nei commenti qui sotto. Ciao, alla prossima auto! Ciao, ciao!